Migranti. Calenda. Salvini non ha mandato a casa nessuno. Da Ascolta la notizia. In Italia ci sono tra i 500.000 e i 600.000 irregolari, Salvini non ha mandato a casa nessuno. Se non fai i rimpatri incentivati e se non regolarizzi chi trova un lavoro, il problema non lo risolvi. Dico agli italiani. Non credete a chi vi promette oro sugli alberi e la sicurezza assoluta. Dico agli italiani. Dovete sempre chiedere come. Lo ha detto il leader di azione, Carlo Calenda, a Inonda sulla 7. Se ricominciamo con i porti aperti o i porti chiusi non arriviamo da nessuna parte, ha aggiunto. L'ex ministro ha poi annunciato che oggi presenterà le linee guida del patto per le elezioni, che, non è un programma, ha precisato. Nel patto, ha spiegato, deve essere chiaro che, siamo atlantisti e siamo per dare più potere all'UE rafforzando i rapporti con gli USA. Siamo per rispettare gli accordi sulle spese NATO, a favorire la resistenza ucraina con il materiale bellico. Sono tutte cose sui cui penso il PD ci stia perché le ha votate.